Amici di HAndroid.it, benvenuti in questo nuovo unboxing dove andremo a scoprire il Qubot X10 Uno smartphone Android dà le caratteristiche molto interessanti, è impremeabile all'acqua e dà un prezzo veramente contenuto Stiamo parlando di 130 dollari che con il cambio attuale siamo sui 115-120 euro Andiamo a scoprire subito la confezione, la confezione è molto elegante Troviamo i sigilli di garanzia, noi già abbiamo aperto perché abbiamo visto il contenuto Ci sono le varie indicazioni, il telefono è un dual sim, quindi potete inserire contemporaneamente due sim Qui trovate una serie di seriali, nella parte posteriore invece trovate le principali specifiche tecniche Andremo a vedere man mano che abbiamo la confezione, soprattutto nella recensione che effettueremo nei prossimi giorni Allora, apriamo immediatamente la confezione e vediamo cosa c'è all'interno All'interno troviamo immediatamente il Qubot X10, display da 5.5 pollici È un display HD, quindi si parla di un edificio di 1280x7,20 Nella parte frontale troviamo una fotocamera da 8 megapixel Invece sulla parte posteriore troviamo una fotocamera da 13 megapixel Il sistema operativo è Android 4.4 KitKat Il processore è un octa-core da 1.4 GHz Precisamente il Mediatek MTK6592 Ok, mettiamolo un attimo di lato, dopo andremo a vedere le altre specifiche Oggettivamente vedremo tutto il resto nella recensione Vediamo cosa c'è sotto la confezione Sotto la confezione troviamo Allora, un piccolo manuale Eccolo qui Delle pellicole protettive Quindi potete sostituire quella che già c'è montata sopra al dispositivo Eccola qui, si vede E subito sotto troviamo il caricabatterie da viaggio Eccolo Caricabatterie che non dovrebbe avere la ricarica veloce No, effettivamente non ce l'ha E il cavo USB Purtroppo mancano gli auricolari Nella parte bassa troviamo l'accessorio che serve per rimuovere la sim Questo va inserito all'interno della flessura E trovate sopra il perimetro del Cubot Per rimuovere la sim Mettiamo di lato un attimo tutti gli accessori E andiamo ad accendere il terminale Intanto vi spiego le dimensioni Dimensioni stiamo parlando di 15,38 x 7,65 x 0,71 cm Il peso è di soli 106 grammi Eccolo qui Vediamo se ha un pochettino di ricarica Così effettuiamo questa prima accensione Si Si accende tranquillamente Una cosa che ho dimenticato Troviamo la cover anche protettiva Che è completamente in silicone Quindi le classiche Eccola qui Altoparlante che è posizionato nella parte sinistra a basso Ah, la GPU Se non ve l'ho già detto Ha una Mali 750 MP Memoria interna da 16 GB E ben 2 GB di RAM Quindi consente di far girare I principali programmi per Android Lo abbiamo acceso Per oggi è tutto Non vi do ulteriori informazioni Di terminare Perché oggi lo dobbiamo provare Nei prossimi giorni Continuateci a seguire sul nostro sito www.techandroid.it Ed iscrivetevi al nostro canale YouTube Grazie a tutti per averci seguito